Più di 300 artisti supportati da oltre 200 maestranze animeranno due mesi di spettacoli e il Festival Abruzzo dal Vivo, organizzato sinergicamente da 23 comuni del cratere del terremoto del centro Italia, in convenzione con Ars Abruzzo. Da Ludovico Enaudi a Gianna Nannini, da Massimo Ranieri allo Stato Sociale, gli artisti si esibiranno nelle suggestive cornici del Parco Nazionale del Gran Sasso. La cultura rappresenta ancora una volta il volano per ripartire dopo la pandemia e dopo il terremoto. Quest'anno Abruzzo dal Vivo riparte, il 10 di luglio iniziamo con i primi spettacoli, 60 eventi tutti copiosi e corposi, personaggi eccezionali, Enaudi a Campotosto, Lanannini a Piano Roseto, ma quest'anno Abruzzo dal Vivo si pone altri obiettivi, oltre al rilancio culturale, il rilancio dei territori, ma a dare l'economia a quelle strutture importanti, di service tecnici che troppo hanno sofferto, quindi abbiamo firmato anche un protocollo con l'Ars, con Carlo Volpi in qualità di Presidente, ma soprattutto attenzione alle famiglie che sono state troppo tempo dentro casa, quindi eventi, manifestazioni a go-go, che si fanno nello scenario, nel palcoscenico più ambientale possibile, lascio immaginare Naudi al Lago di Campotosto, alle 18 di sera con il tramonto, insomma è l'invito che fa il sindaco capofila dei 23 comuni per venire ad osservare il festival Abruzzo dal Vivo.